Una vera e propria festa della vita, quella che si è celebrata presso le zuccate di Leocaspite nella parte alta di via San Francesco a Statte, con la cerimonia legata alla festa dell'albero organizzata dall'amministrazione comunale di Statte e dal comando provinciale di carabinieri forestali in collaborazione con l'ARIF della provincia di Taranto. Sono piantate una cinquantina di essenze di macchia mediterranea da parte della preziosa agenzia per le risorse irrigue forestali della regione Puglia che contribuisce con noi appunto con questa piantumazione delle piantine. Sono stati piantumati 30 lecci, 20 carrubi e 15 lentisco, piante che appartengono alla tradizione proprio del territorio statese. Un'area che ha una rilevanza storica per il nostro territorio, che è appunto quella delle zuccate di Leocaspite e quindi mantenere quelle che sono le tradizioni attraverso anche il rispetto della natura e dell'ambiente che ci circonda. Sono piante che fanno parte dell'ecosistema del nostro territorio, per cui sarà un motivo in più per vedere crescere in questo paesaggio qualcosa che fa parte del nostro paesaggio naturalistico e ambientale. Le attività sono state svolte per invogliare nuove generazioni a conoscere le piante e apprezzare il paesaggio che circonda la macchia mediterranea nei territori tarantini. Noi tutti i giorni dell'anno, durante l'estate per l'antincendio, durante l'inverno per la manutenzione dei boschi, curiamo appunto le piante. Oggi stiamo trasferendo questa cosa ai bambini, sperando che con questa giornata simbolica ci possa essere un futuro per il nostro ambiente migliore.